8 sardi su 10 consumeranno il pranzo di Natale in famiglia e lo faranno con particolare attenzione all'origine locale dei prodotti portati a tavola. È quanto emerge da un'indagine di Coldiretti Sardegna su un campione di 300 persone raggiunte telefonicamente. Il 79,1% pranzerà in famiglia e condividerà la giornata della natalità con i parenti più stretti. 4 su 10, 43% dicono che il 60% del menù sarà dei prodotti sardi. Il 33% verrà acquistato nei mercati di Campagna Mi e se intervistati su 10, oltre il 60%. Secondo un'indagine del Consorzio di tutela dell'agnello IGP di Sardegna, rispetterà la tradizione con la presenza dell'agnello, prodotto da sempre principe del pranzo di Natale. Oggi nel consumatore c'è sempre maggiore sensibilità e consapevolezza quando va a fare la spesa, commenta Battista Qualbu, presidente regionale di Coldiretti. Cresce la richiesta dei prodotti locali di stagione e il nostro termometro, rileva Qualbu, è rappresentato dai mercati di Campagna Amica, dove emerge che le persone puntano alla qualità e alla certificazione di origine locale. Proprio in vista delle feste, alcuni mercati di Campagna Amica faranno delle aperture straordinarie, martedì 24 e 31 gennaio, nel Sassarese e a San Gavino di Porto Torres. Sta crescendo la cultura del cibo, afferma il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Si presta più attenzione alla lettura delle etichette e all'origine dei prodotti che si acquistano, ma come succede nel mercato di Campagna Amica, ci si informa anche sulla stagionalità e i metodi di produzione. Grazie a tutti.